Non si farà il nuovo comune Casentino-Laverna. Chiusi della Verna ha infatti detto no alla fusione con Bibiana e Dortignano, facendo così sfumare il matrimonio che in base a quanto deciso dalla regione richiedeva il consenso di tutti i paesi coinvolti, saltata anche l'altra ipotesi di fusione, ossia quella tra Chiusi della Verna, Chitignano e Castelfocognano. Il comune di Chiusi infatti si trovava al centro di un doppio quesito al referendario, da una parte l'ipotesi di fusione con i comuni di Bibiana e Dortignano-Raggiolo e dall'altra invece quella con Chitignano e Castelfocognano. I cittadini di Chiusi della Verna hanno detto no ad entrambe le proposte con il 62,68% dei no. Se le fusioni sono fatte per risparmiare e quando si risparmia si va a incidere sui servizi dei cittadini. L'esempio lo si ha in Casentino sull'ospedale di Bibiana. Ha vinto il no alla fusione anche a Chitignano con 123 voti contro i 76 per il sì. A Dortignano-Raggiolo invece sono stati 250 sì e 204 no. A Castelfocognano 299 sì e 140 no. Ed infine a Bibiana sono stati 2094 i sì contro i 1311 no. Una vittoria del no provocherebbe niente di nuovo e quindi confermerebbe il trend attuale che prevede oltretutto anche una diminuzione continua dei contributi da parte dello Stato, difficoltà economiche che conosciamo e quindi chi avrà votato no vuol dire che preferisce non cambiare.